Forza! 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 Van Gugolo! Vai, Vanterino! Ma se siete bravissimi! Gino lo vedo in difficoltà oggi, com'è? Eccolo qua, non è il nostro! Ma Roberto è andato fuori pista! Roberto non è andato a finire! Com'è che mi ti ille gambe? Vai Roberto vai! Ok? No, no, ma è ok! Buongiorno! Quante tante cose! Grazie! Va benissimo! Buongiorno! 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 Buongiorno!